Ora è partito, ecco il babbo, dai stavolta funziona, perché c'ho questo, è nel pieno della sua attività, vicino alla signora, si deve vedere che è una lavoratrice, non una pigrona, lavoro sì, sono 53 anni, bellissimo primo piano, bravo, bravo, ora non fa quasi più niente, aspetta prima non fa quasi niente, ecco il babbo, in piena attività lavorativa, come prepara la colazione, guardate un po', ti sto spiando Claudio, buono quel cornetto, ma quest'ora è ora di pranzo, ma no, all'ora di pranzo ha colazione, vuoi un cornetto, vuoi un cornetto questo? No, non voglio niente, lei ha già fatto colazione, alle otto e mezza, uno yogurt magro, mi stanno male, allora, faccio un po' più qua, questa notte fino al sapere mezzo non ho chiuso un occhio, ci sono addormentata dopo un pochettino, e l'altro occhio che faceva? Uno aperto e uno chiuso, cosa mi fai a me? è fantastica, quando vieni a me, sento la nostalgia io, quando ci vediamo l'anno prossimo, come no? Eh no, io lo dico a Claudio, se Dio ci lascia, quando gli dico, quando ho bisogno ti chiamo, vieni giù, eh? Eh certo, allora vada che la seguo, se vuole un aiutino, io sono brava, faccio dieci camere in un lampo, ci credo, cioè le guardo, le guardo e basta, e riviene via, la camera del re la vista no, pioveva? Eh stai pioveva Marta, pioveva? La torre del moro, c'è la torre del biondo? No, non c'è. Grazie.